è possibile diventare ricchissimi investendo in criptovalute nel 2022 oppure potresti anche perdere tutti i tuoi soldi magari la verità si va a trovare nel mezzo cerco di darti la mia opinione in questo video cercando pur non amando questo particolare asset class di essere più imparziale possibile ma solo dopo la sigla ciao a tutti bentornati sul canale io risparmio e io sono pasquale il vostro amichevole investitore e risparmiatore della porta accanto ed oggi andiamo un attimino a vedere quello che un asset classico io non amo tanto anche se come sapete dai video precedenti ne posseggo un pochettino come tale mi sento in obbligo di dover dedicare un po di spazio alle criptovalute perché sono asset comunque presenti nei portafogli di molti investitori e anche perché sulla bocca di tutti e in un canale che pubblica come questo da lunedì al venerdì ha senso ovviamente non distrattare in toto le criptovalute ma anche invece senso andare a trattare in maniera comunque imparziale per cui andiamo un attimino ad analizzare quali secondo me potrebbero essere i pro ed i contro paventabili nello scegliere di investire nelle criptovalute per la cronaca in questo video non parlo solo di bitcoin o di ethereum anche se sappiamo tutti che sono i due cripto principali ma cerco di avere un'idea che sia un po più ad ampio spettro perché non sappiamo il futuro cosa ci possa riservare e se ad esempio alcune criptovalute che oggi sono a bassissima capitalizzazione possono ad esempio diventare nel futuro il treno che va a tirare tutto il mercato devo anche andare a specificare che questi sono delle considerazioni fatte da una persona che come me è un profano o che comunque di un investitore che non è al 100% esperta in questo mondo ci sono sicuramente persone molto ma molto più esperte di me ad esempio mi vengono in mente Filippo Angeloni o Tiziano Trinico o il mio amico Andrea Landriani che sono le persone che tra l'altro seguo per imparare meglio questi asset class e per le quali se non li conoscete vi consiglio di andare a dare un occhio sui loro canali e per cui vado a dare la mia attuale impressione personale da un investitore che ha una conoscenza media di questo settore per cui ovviamente prendete tutto quello che vi andrò a dire in questo video con le pinze e fate come sempre le vostre opportune valutazioni anche perché questi non sono consigli di investimento ma qualcosa che gira nella mia testa partiamo dai rischi quali potrebbero essere i rischi connessi alle criptovalute il primo che mi viene in mente il fatto che queste non vengono scambiate su un mercato tradizionale come ad esempio una qualsiasi borsa valori ma solo su degli exchange che sono vulnerabili ad esempio a degli attacchi informatici per cui possono diventare bersaglio di alcune tipologie di attività criminale non sarebbe la prima volta che un exchange di cripto viene attaccato da un hacker e per cui alcuni fondi o tutti i fondi vengano rubati è capitato in passato e la storia non è detto che si possa ripetere in futuro oppure famosa è la storia delle criptovalute create così come meme ad esempio basandosi sulla serie di netflix squid game e per la quale i creatori una volta raccolti i soldi dalla IPO anzi come si dice nel gergo cripto ICO initial coin offering che sarebbe in pratica la messa in vendita sul mercato dei primi token prima che vengono scambiati effettivamente sui exchange beh quelli hanno pensato ben bene di raccogliere il malloppo sparire da tutti quanti i social ed intascarsi qualche milioncino di euro così free lasciando molti potenziali investitori con un pugno di mosca in mano in ogni caso sempre parlando di sicurezza informatica e per cui di furto di criptovalute sui exchange cosa che ancora fattibile tra l'altro perché molte persone non prendono le precauzioni necessarie secondo me la cosa più conveniente se si posseggono delle somme piuttosto importanti non in generale ma per quanto riguarda le nostre possibilità in cripto è quella di comprare un cripto wallet fisico o come dicono in inglese hard wallet o cold wallet un portafoglio freddo in questo caso si tratta di una vera e propria chiavetta usb creata appositamente per andare a conservare e custodire le criptovalute col fatto che la chiavetta è staccata dalla rete è quasi impossibile che i fondi vengano rubati comunque se volete tenere i vostri fondi sull'exchange fate in modo di usare magari sempre delle sicurezze in più come l'autentificazione a due fattori per aggiungere un ulteriore strato di sicurezza ad esempio io pur avendo quattro soldi in croce ma comunque partendo dal presupposto che sono soldi miei che ho guadagnato lavorando e che per cui ho scarsa voglia di farmi rubare da qualcuno ho preso comunque un ledger nanoex nel quale detengo questi quattro soldi in criptovalute se non conoscete il ledger vi lascio qui sotto il link in descrizione per andare a vedere di cosa si tratta comunque in linea generale è molto più facile tenere al sicuro il proprio portafoglio azionario o obbligazionario rispetto ad un normale portafoglio cripto per tutti questi fattori un altro rischio e questo in realtà viene condiviso con qualsiasi tipologia di investimento è che il progetto in cui credete non vada a buon fine e per cui a seguito dello scarso interesse da parte degli investitori oppure ad una scarsa prevenzione ad esempio del management a migliorare il progetto il prezzo del token che abbiamo acquistato possa andare a zero e quindi essere nella situazione o come conseguenza di perdita parziale o totale del capitale per il fatto che la criptovaluta scende di valore un rischio tuttora presente e che anch'io prendevo in considerazione in passato ma secondo me al momento non vedo molto facile che rientri in gioco è quello dell'eventualità che enti regolatori possono proibire in toto il trading l'acquisto o il possesso delle criptovalute in realtà adesso non ho più questa paura al massimo quello che potrebbe succedere che il mercato venga così duramente regolamentato e si possa andare a perdere interesse magari in questo asset detto ciò ed avendovi spaventato abbastanza quali invece possono essere i lati positivi dell'investire nelle criptovalute anche nel 2022 beh nonostante i rischi intrinsechi le criptovalute e l'industria di blockchain si stanno costantemente rafforzando si sta costruendo una certa infrastruttura informatica e finanziaria necessaria e quasi a volte imprescindibile e gli investitori sono sempre più in grado di accedere ai servizi di custodia di livello istituzionale gli investitori professionali ad esempio adesso stanno gradualmente ricevendo degli strumenti di cui hanno bisogno per gestire e salvaguardare i propri beni criptografici inoltre molte transazioni vengono proprio validate utilizzando la blockchain in particolare quella che è più utilizzata al momento è ethereum ad esempio tutte quelle transazioni di acquisto fatte sulla piattaforma criptalia anzi evenfi visto che ha cambiato nome di recente vengono validate proprio sulla blockchain di ethereum affinché tutto possa essere registrato in maniera corretta e non ci sia la possibilità di andare a manomettere ogni transazione che viene effettuata dal mio punto di vista infatti vedo appunto le criptovalute più un modo per andare a rendere profittevole una tecnologia che c'è sottostante e che serve a migliorare alcuni servizi facendoli diventare più strutturati e che poco hanno a vedere secondo me col token di per sé la forma di pagamento fatta in token a mio parere è semplicemente merce di scambio per avere un capital gain un po la punta dell'iceberg ma la vera tecnologia non avrà niente a che vedere secondo me con il token in sé i mercati di future ad esempio sulle criptovalute si stanno affermando e molte aziende stanno guadagnando un'esposizione diretta al settore delle criptovalute giganti finanziari come ad esempio square o paypal stanno semplificando l'acquisto e la vendita di criptovalute sulle loro piattaforme che sono popolarissime mentre altre società tra cui appunto square che ho appena citato hanno investito collettivamente in centinaia di milioni di dollari in bitcoin e altre risorse digitali tesla come ben sanno in molti ha acquistato bitcoin per valore di 1.5 miliardi di dollari all'inizio del 2021 e poi non dimentichiamo che elon musk utilizza le cripto per fare ancora più soldi di quanto non ne abbia molto probabilmente avrà più problemi legali nel caso in cui il mercato venga ancora più regolamentato perché dovrà andare a ponderare molto di più i propri twitter e le proprie parole per cui sebbene ci siano dei fattori che impattano la rischiosità del mondo delle criptovalute il crescente ritmo di adozione è un segno che un settore che molto probabilmente sta maturando sia singoli investitori che le aziende stanno cercando di ottenere un'esposizione diretta alle criptovalute considerandole almeno in un certo senso abbastanza sicuro per investire in clienti somme di denaro rispetto al passato non a caso alcuni stati del mondo hanno cominciato a permettere le transazioni bitcoin rendendoli di fatto legali quasi come se fosse una moneta normale centralizzata per cui dovremmo investire in criptovalute oppure no nel 2022 secondo me possedere alcune criptovalute può in un certo senso aumentare la diversificazione del portafoglio perché e poiché le cripto come bitcoin hanno storicamente mostrato quasi nessuna correlazione di prezzo col mercato azionario statunitense anche se in questo periodo si vede qualcosina di correlazione se ritieni che l'utilizzo della criptovaluta diventerà sempre più diffuso nel tempo allora probabilmente ha senso acquistare alcune o tante criptovalute direttamente come parte di un portafoglio diversificato se invece non ritieni che questa sia una tecnologia fattibile per il futuro allora ti consiglierei di starne lontano perché come un po tutti gli investimenti oltre a capirli bene bisogna anche credere nel progetto soprattutto se si tratta di un investimento vero e proprio e non di un trading per cui qualcosa che si vede come un lungo termine non investire solo perché hai sentito parlare ma perché dovessi andare anche a studiare tutto quello che il progetto i cosiddetti white paper quel file che viene caricato sul sito ufficiale della criptovaluta è che se utilizzato per bene va a spiegare passo passo quello che è il progetto ovviamente se vuoi esporti a questo mondo ma non vuoi acquistare criptoasset direttamente perché magari li ritieni troppo volatili per la tua esposizione al dischio una possibile alternativa è quella di andare ad acquistare azioni di società che hanno anche degli introiti in maniera diretta o indiretta delle cripto ad esempio parlavamo prima di paypal o square ma anche investendo su broker che applicano commissioni sullo scambio di cripto per esempio di toro o su exchange di cripto veri e propri come ad esempio coinbase queste potrebbero essere alternative nonostante ci sono anche degli etf che vanno a seguire i vari mercati per cui c'è un'ampia scelta detto ciò ti tengo a ribadire che devi capire assolutamente quello che stai facendo soprattutto nel caso tu lo faccia a lungo termine e non per speculazione che tu conosca alla perfezione quel progetto e anche che tu lo tenga monitorato per capire se il management possa sbagliare qualcosa o possa farti perdere tutti i tuoi soldi per delle scelte scelerate bene queste sono le mie impressioni sul mondo cripto per il 2022 che credo vanno un po a rispecchiare quello che è sempre stato l'idea del mondo cripto almeno da parte mia se queste considerazioni sono di tuo gradimento ti prego di farmi sapere le tue impressioni lasciando un commento qui sotto e un bel pollice in su se il video è stato di tuo gradimento ovviamente se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo anche per oggi è tutto e ci vediamo con un altro video a presto ciao